Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Si avvicina il periodo delle feste, si avvicina Natale. Probabilmente quando uscirà il video sarà già Natale, quindi volevo dedicare un video a come comportarsi sotto le feste perché già iniziano ad arrivare un po' di domande in merito e credo che sia una tematica veramente interessante. Allora, cosa fare a Natale, come comportarsi, come gestire il nostro piano alimentare e di allenamento? Il primo punto è, logicamente, capire il nostro contesto perché come ci sono delle persone che in questo periodo sono magari in bulk ci sono anche persone che stanno affrontando una fase di cut, una fase di mini cut, quindi cerchiamo di differenziare questi due scenari. Primo scenario, fase di bulk. Ora, in fase di bulk il discorso della gestione delle feste natalizie è un falso problema. Ma un falso problema perché realmente per quanto possiate mangiare il 24 sera, il 25 a pranzo, il 26, capodanno, quello che vi pare, è difficile e sarà difficile per voi creare veramente un forte surplus calorico rispetto a quello che mangiate normalmente. Almeno così dovrebbe essere. Se vi approcciate al tavolo, se vi approcciate alla festa, al pranzo, al cenone natalizio, eccetera, con un cravings alimentare, con voglia di mangiare, con perdita di controllo, allora non state facendo bene una fase di bulk. Una fase di bulk è una fase in cui dovreste essere veramente tanto appagati perché la mole di energia che l'allenamento dovrebbe richiedervi è veramente veramente elevata. Normalmente dovreste essere, non dico nauseati dal cibo, dal troppo mangiare, perché logicamente anche questo è un estremo. Molte persone arrivano a questo, dipende dalla richiesta energetica, però sicuramente non dovreste avere cravings e dovreste avere la capacità semplicemente di sedervi e godervi delle porzioni normali di ciascuna cosa, godervi la compagnia, eccetera, eccetera. Quindi in fase di bulk non è veramente un problema. L'unico discorso è il discorso gastrointestinale, quindi eventuali problematiche che possono nascere introducendo cibi nuovi, cibi più lavorati, però anche là è un discorso realmente di priorità. Ragazzi, voi sapete che sono un grande fautore della scelta delle fonti, del dare una certa priorità anche alla provenienza delle fonti, però si parla di un momento familiare, momenti che non capitano, cioè capitano tutti gli anni auspicabilmente, però non capitano sempre. Quindi credo che la gerarchia che ognuno di noi ha dovrebbe vedere prevalere questo momento sociale in famiglia piuttosto che una scelta maniacale delle fonti. E lo dice una persona che è veramente, veramente un grande fautore di questo discorso di scelta delle fonti. Quindi da questo punto di vista la fase di bulk è veramente, veramente un falso problema. Non preoccupatevi assolutamente, sedetevi, godetevi il contesto, godetevi il momento e di nuovo se avete dei cravings o perdite di controllo, fatevi due domande su come state affrontando questa fase di bulk e quello che avete impostato che potrebbe non essere veramente ottimale. Ora, fase di cut e mini-cut. Ecco, sicuramente in un contesto del genere in cui state in deficit, l'ABF si sta abbassando, avete fame, potreste avere cravings, potrebbe presentarsi un problema, però anche qua, il 24 sera, il 25 pranzo, o qualsiasi altro evento, nel caso abbiate diversi poli e nuclei familiari sparsi come nel nostro caso, qualsiasi altro evento sociale, può essere sfruttato come una fase di refeed. Fase di refeed in cui andate a ricaricare le pile, in cui andate a rimangiare, e in questo caso serve che vi appegliate in qualche modo a un certo controllo a tavola, quindi non esagerate, prendete semplicemente qualcosa con moderazione, quindi le diverse porzioni con moderazione, non vuol dire mangiare poco, per carità, vuol dire mangiare il giusto, finché non siete sazi, e cercate di vivere questi momenti, non tanto in un atteggiamento food focused, per quando magari BF veramente basse vi portino a questo, però cercate di viverli da un punto di vista sociale, quindi concentratevi sul momento, sulla famiglia, su tutto quello che vi circonda, e assaggiate quello che vi va di assaggiare, fermatevi quando siete sazi, e cercate di prendere confidenza con proprio la vostra sazietà, il vostro senso di sazietà, veramente, perché è la cosa più importante in assoluto, quindi l'importante è non strafare, però potete sfruttare questo momento come delle fasi di refeed, per ricaricare le batterie, e poi tornare nel vostro cut e mini cut, logicamente se avete delle competizioni, però non ci sono competizioni normalmente a gennaio-febbraio, però se avete delle scadenze, delle competizioni molto importanti, siete atleti di un certo livello, allora ci sta benissimo il discorso di saltare questi passi, o seguire la vostra alimentazione, la vostra dieta, perché non potete permettervi magari di fare dei refeed, o dei cheat, di una simile portata, così tanti, oppure il vostro planning, la vostra alimentazione non li prevede, però realmente se non avete delle competizioni, dal mio punto di vista personale, da un punto di vista gerarchico, vengono prima questi momenti in famiglia, questi momenti in cui stiamo tutti insieme, e dei refeed assolutamente non danneggiano quelli che sono i vostri risultati, anzi, anzi, in una fase di cut, hanno logicamente senso, hanno logicamente spazio, per incentivare quella che è la performance, e ricaricare un po' le batterie, ricaricare il glicogeno muscolare, eccetera, eccetera, insomma, sul refeed abbiamo già fatto diversi video, quindi rimando eventualmente a quelli. Ora, questo preambolo, abbastanza lungo, è per dire che sia che siate in fase di cut, sia che siate in fase di bulk, ci sono ragioni, motivi per godervi semplicemente i pasti natalizi, quindi non c'è un motivo per saltare, però, però, come si dice qua, it's up to you, sta a voi, ragazzi, veramente, Georgia dice, ha una frase molto bella, ha detto stamattina, quando parlavamo di questa discussione, prima di fare video parlo sempre un po' con lei, per fare una specie di brainstorming, su diversi argomenti, questo vi fa capire quanto noioso, se siete le vostre chiacchierate, mazzutine, a parte di scherzi, lei dice, c'è differenza tra, voglio fare, non voglio fare, o voglio non voler fare, e questa è una cosa che dovreste chiedervi, ossia, volete, godervi questi momenti sociali, con la vostra famiglia, stare bene, stare spensierati, non pensare al cibo, mangiare quello che c'è veramente in tavola, oppure non volete farlo, oppure vorreste non volerlo fare, ma la verità è che volete farlo, quindi, chiedetevi questa cosa, chiedetevi cosa c'è veramente, cosa si c'è là dietro un po' la vostra maschera, cosa vorreste fare, o cosa non vorreste fare, e in base a questo muovete di conseguenza, perché realmente ci sono tante persone che scrivono, e fanno foto del riso e pollo a Natale, no pain no gain, e altre persone che criticano dicendo, ah ma che devi andare all'Olimpia, eccetera eccetera, ci sono tante discussioni, ogni anno in merito, su tutti i gruppi di Facebook, su tutti i poli in cui le persone parlano, però realmente credo che, qualsiasi sia la vostra scelta, se aderire al vostro piano alimentare, o se sgarrare, partendo dal presupposto che, in questo video vi sto dicendo, non cambia assolutamente nulla, potete permettervi di farlo, qualunque sia il vostro contesto, beh qualsiasi sia la vostra scelta, l'importante è che sia una scelta in linea, con quello che voi veramente volete, e se è in linea con quello che voi volete, nessuno vi può giudicare, la vostra femminile non può farvi pesare questo fatto, dovete imporvi, perché se volete fare la dieta, fate la dieta, se non volete fare la dieta, il vostro preparatore, i vostri amici bodybuilding centrici, eccetera, non devono imporvi niente, perché ragazzi mi sto godendo un momento familiare, che non ricapiterà, perché c'è soltanto quest'anno, voglio semplicemente godermi il contesto, e mettermi là a cucinarmi il riso e il pollo, mentre tutti mangiano queste cose, e magari far dispiacere la nonna, perché non assaggio i suoi manicaretti, perché di questo si tratta anche, è una cosa che non voglio fare, semplicemente, non andrò all'Olimpia, non sarò un grande atleta, però d'altro canto posso dire, di essere una grande persona, perché sono in linea con quello che veramente voglio fare, quindi chiedetevi cosa realmente volete fare, e qualsiasi cosa vi dicano, ricordatevi, Ludovico ha detto che posso permettermi di farlo, perché non succede assolutamente niente, se questo può aiutare, ora, ci ho detto un altro discorso che voglio spendere, riguarda l'allenamento, come gestire l'allenamento, perché anche qua, si parte subito pensando all'allenamento, ora qua vi dico la mia, io ho un'impostazione giorni on, giorni off, un'impostazione che ovviamente cambia, uno splittaggio che cambia, non so esattamente a Natale, come sarà la mia split, perché in questo momento devo andare a scaricare, e poi successivamente ripartirò, in questo momento sta facendo 5 giorni on, 2 giorni di recupero attivo, eccetera, io in generale non cambio l'allenamento, in funzione di Natale, se le palestre sono chiuse, eccetera, riadatto qualcosa, però realmente qua, in UK non è il caso, la ultraflex è aperta anche il giorno di Natale, il 24, il 25, eccetera, quindi io non cambio le cose, se devo riposare il 25, mi riposo il 25, se mi devo allenare il 25, mi alleno il 25, se devo riposare il 24, riposo il 24, se mi devo allenare il 24, riposo il 24, mi alleno il 24, eccetera, eccetera, quindi non è un qualcosa che vado a cambiare, perché di nuovo, anche da un punto di vista di allenamento, se ho impostato la spirit in un certo modo, ha un senso, vuol dire che devo riposare, e andare a modificare l'allenamento, perché devo veicolare, o permettermi il cheat, è una delle cose più stupide che si possono fare, perché semplicemente, metto in secondo piano l'allenamento, neanche per dare priorità all'alimentazione, ma per dare priorità, ai miei cravings, alle mie paranoie, irrealmente ragazzi, se vi allenate bene, che sia un giorno di riposo, che sia un giorno di allenamento, sfrutterete al meglio quei nutrienti, perché il corpo, è in un continuo stato di riparazione, e in un giorno di riposo, sta riparando, sta recuperando, quindi ha comunque bisogno dei nutrienti, non creerete danni, quindi, mega cardio infinito la mattina, prima del 25, o allenamenti super voluminosi 25, perché poi, devo andare a mangiare, queste sono cose molto stupide, allenatevi il 25, se la vostra split, prevedete di allenarvi il 25, e in questo, io devo dire, di essere poco flessibile, perché l'allenamento, viene messo al primo posto, non tocca in alcun modo, il momento sociale, al 25, se mi devo svegliare alle 5 del mattino, per allenarmi alle 6 del mattino, e poi godermi tutto il momento in famiglia, è qualcosa che faccio, lo faccio ben volentieri, se invece devo riposare, riposo, eccetera, eccetera, quindi faccio in modo, che l'allenamento ovviamente, non tocchi, quella che è la sfera sociale, perché per me, la sfera sociale, il nucleo familiare, viene prima di ogni cosa, purtroppo, non credo che salirò sul palco dell'Olimpia, o mi appiazzerò all'Olimpia, per cui, prendo consapevolezza di questo, e rimango in linea con quel che credo, però, se mi devo allenare, mi alleno, su questo, non scendo a compromessi, a meno che le palestre non siano chiuse, quindi, questo è un consiglio che vi do, non fate compensazioni, e non fate compensazioni giorni dopo, giorni dopo, tornate a quella che è la vostra alimentazione, non succede niente, vi siete goduti il momento, ma se vi godete il momento con l'idea di fare delle compensazioni, realmente ragazzi, non ve lo state godendo veramente, perché state già pensando al dopo, non mangio eccetera, è logico il 25 a pranzo, se mangiate tanto, non dovete cenare a forza, perché il piano prevede di cenare, o fare una merenda, o fare uno spuntino, o fare un pre-nanna, magari siete super pieni, mangiate due biscottini, con la mamma, la nonna davanti alla televisione, o i figli, insieme vi godete un momento serale, ma non dovete forzarvi a mangiare, questo lungi da me consigliarvelo, però, questo è, non fate compensazioni, tornate al vostro piano, e tornate a seguire il vostro piano, e sia se state in fase di minicat, che di bulk, il giorno dopo dovreste svegliarvi, con un certo appetito, un certo languorino, perché il motore gira, e dovrebbe aver assimilato, tutta la perfezione, ragazzi, questi sono dei consigli, per gestire il periodo di feste, io qualsiasi domanda, vi invito a farla qua sotto, sarò a begliato di rispondere, e ovviamente vi auguro buone feste, vi auguro di passarle, nel modo più spensierato possibile, più leggero possibile, cercando di portare via tutto lo stress, tutta la negatività, tutto il peso che dà, normalmente il quotidiano, il lavoro, la società, eccetera eccetera, ma soprattutto vi auguro di passarlo, nel modo in cui volete veramente passarlo, in linea con quello che siete, veramente voi, senza farvi problemi, e detto questo, buone feste, e ci vediamo al prossimo video.